Buongiorno a tutti e ben ritornati in questo nuovo video ragazzi oggi parliamo della conferenza stampa di presentazione di Juventus Atalanta di domani perché il 10 di marzo si gioca una partita che Allegri ha definito delicata, importante ma non decisiva io sono d'accordo, credo che la partita di domani non sia decisiva ma la Juventus deve ricominciare a fare punti e fare punti per davvero e non si può parlare di altro in questo momento se non di fare punti perché tanto non c'è volontà di cambiare nemmeno quando le stagioni iniziano o quando ci sono le prime difficoltà e rimanere su un percorso differente, figuriamoci se può esserci una volontà di cambiare adesso che mancano una decina di partite di campionato più un paio di Coppa Italia, si spera tre, quindi bisogna tornare a fare punti per garantirsi l'accesso alla prossima Champions League e iniziare la stagione io dico nel migliore dei modi ma anche diversamente e con diversamente dico tutto e niente partiamo dal morale della squadra, in tanti mi avete chiesto di avere anche la possibilità di sapere che cosa chiedono ad Allegri quindi ho scelto delle parole chiave per farvi comprendere, la prima è la domanda ovviamente di JTV, Juventus TV e chiede all'allenatore il morale della squadra e Allegri dice quando arrivi in questo momento i punti sono pesanti, serve fare punti per raggiungere l'obiettivo e giochiamo contro una squadra che vuole arrivare nei primi quattro posti vero abbiamo fatto una buona partita a Napoli ma siamo venuti via con zero punti domani serve un'altra bella partita ma soprattutto fare risultato il fatto che la Juventus non meritasse di perdere a Napoli e secondo me questo è un dato di fatto non significa che la Juventus abbia fatto una bella partita perché la bella partita la Juve non l'ha fatta, ha fatto una partita più decente rispetto a quelle che sono i suoi standard soprattutto dell'ultimo periodo, per fare una bella partita bisogna migliorare tante cose tantissime cose a prescindere da quelle che possono essere le nostre idee, le nostre preferenze però la Juventus non è in grado di gestire la palla, la Juventus non è in grado di difendere alta la Juventus non è in grado di dare continuità a un'idea come può essere il pressing che si sposa bene anche con le caratteristiche di questi calciatori quindi queste sono tutte cose da migliorare e tramite questi miglioramenti arriveranno poi dei risultati diversi o arriverebbero poi dei risultati diversi è tutto qui il discorso, per quanto mi riguarda crollo nel momento clou della stagione Allegri dice non sono preoccupato, siamo dispiaciuti per i punti lasciati siamo a marzo, siamo nella parte finale di stagione il primo obiettivo stagionale era arrivare a marzo nelle migliori condizioni siamo al secondo posto in classifica stiamo lottando per i primi quattro posti e siamo in semifinale di Coppa Italia momentaneamente gli obiettivi prefissati li abbiamo raggiunti ora dobbiamo essere bevi ad arrivare in fondo a queste ultime partite tra campionato e Coppa e provare a fare il meglio possibile no, non abbiamo raggiunto gli obiettivi stagionali cioè se l'obiettivo era arrivare a marzo nelle migliori condizioni possibili non l'abbiamo raggiunto anzi ci siamo arrivati nelle peggiori condizioni possibili perché non basta guardare la classifica e dire oh guarda sono secondo quindi significa che sono nelle migliori condizioni no, bisogna guardare il campo, bisogna guardare il rendimento bisogna guardare le partite e le partite della Juventus vanno in una direzione la Juventus è in crisi, la Juventus ha perso se stessa non che prima avesse trovato la miglior configurazione possibile ma era all'interno di una comfort zone una comfort zone che stava dando del rendimento positivo quel rendimento positivo si è sgretolato è un po' come un castello di sabbia quando passa l'onda questa è la Juventus oggi la Juventus non è arrivata a marzo nelle migliori condizioni possibili poi che la Juventus sia seconda in classifica sì, certo, d'accordo, va benissimo però dipende anche molto dal rendimento di quegli altri perché se non si può imporre alla Juventus di dire vinci lo scudetto contro quest'Inter per me questo è un dato di fatto non si può nemmeno allora dire beh, allora la Juventus è seconda sì, ma dietro ci sono delle squadre che hanno sbagliato tanto c'è un Napoli Campionale Italia in carica che ha cambiato tra allenatori in una stagione c'è una Roma che ha esonerato Mourinho e adesso sta volando c'è un Milan Compioli che ha sbagliato tantissimo in questa annata poi ci sono squadre come la Fiorentina l'Alazio che ha sbagliato tanto e sta sbagliando tanto che non è quella dell'anno scorso dal punto di vista difensivo tra le altre cose un Bologna che sta sorprendendo ma la Juve non può fare ragionamenti sul Bologna a inizio stagione poiché il Bologna sta facendo benissimo un dato di fatto è appunto l'Atalanta che domani viene a Torino è un luogo in cui la Juventus non vince dal 2018 l'Allianz Stadium contro l'Atalanta dal 2018 con la Juve non vince sì, non è decisiva però quindi non è vero che siamo arrivati nelle migliori condizioni possibili se questo era un obiettivo non l'abbiamo assolutamente raggiunto poi gli obiettivi sono quelli finali ma ribadisco c'è modo e modo di valutare gli obiettivi non può essere solo un secco beh, siamo arrivati in Champions anche Pirlo arrivò in Champions quali fu la percezione sull'annata di Pirlo? positiva o negativa? ci arrivò in Champions ma come? non si può non valutare il come punto infortunati McKennie recuperato a disposizione si è allenato con la squadra gli altri più o meno tutti a disposizione Alcarazza è fuori Vlaovic è squalificato Rabiot per la prossima dovrebbe essere a disposizione quindi in casa contro il Genoa abbiamo gli uomini giusti per affrontare questa partita contro la squadra fisica che la Juve non batte in casa appunto al 2018 McKennie se sta bene sarà sicuramente titolare quindi un po' questa emergenza della Juventus dal punto di vista dei giocatori convocati sembra essere parzialmente rientrata perché McKennie ha lavorato col gruppo se starà bene domani partirà titolare certo Vlaovic è squalificato ma significa che la prossima ci sarà così come dovrebbe esserci Rabiot bene o male l'unico fuori sarà Alcaraz momento decisivo peserà Vlaovic squalificato? e Allegri dice le assenze non pesano abbiamo altri giocatori domani Milik farà molto bene questa risposta mi piace perché va a dare l'infa vitale a quei giocatori che sono partiti un po' dietro nelle gerarchie che quest'anno non hanno praticamente visto il campo come Milik e quando l'ha visto purtroppo quest'anno c'è stato un momento abbastanza di down della Juventus abbiamo recuperato Ken dobbiamo vedere le cose in maniera positiva in queste ultime partite d'accordo cercare di vedere le cose in maniera positiva non d'accordo cercare di rielaborare quello che è il momento siamo in una buona posizione ma abbiamo poco tempo per recuperare e quindi se siamo in una buona posizione che cosa dobbiamo recuperare? secondo me Allegri quasi fa scappare l'idea di essere un pochettino preoccupato per la partita di domani e secondo me fa anche bene ad esserlo bisogna affrontare una partita alla volta l'Atalanta ha fatto una bella partita in Europa League è una squadra fisica e tecnica che da diversi anni lotta per un posto in Europa decisivo non è mancano ancora 33 punti vediamo domani decisivo assolutamente non è io ribadisco anche per me non è decisiva la Juventus ogni volta che una squadra di quelle dietro andrà a perdere punti per strada andrà a minimizzare quelli che saranno i punti che le serviranno per qualificarsi aritmeticamente alla Champions League poiché è seconda e dovrà sfruttare questa roba qui ma ribadisco non è raggiungere strappare il traguardo prendere in mano il biglietto Champions cioè non può essere solamente questo anche perché ieri vi ho postato nella sezione Community un post molto interessante che ho preso dal sito di Gianluca Di Marzio che va anche a riassumere quelli che sono i guadagni gli introiti per le squadre a seconda della posizione finale in campionato dalla seconda alla quarta posizione c'è una differenza netta dal punto di vista economico finanziario e dato che la società deve guardare per forza di cose i ragionamenti dal punto di vista economico e che Allegri è un aziendalista dichiarato e ragazzi non possiamo perdere considerazione il fatto che il quarto posto il terzo posto il secondo posto sia la stessa roba al di là del fatto che qualificherebbe anche per la Supercoppa dato che ci sarà la Final Four ma la Juve può arrivarci anche con la Coppa Italia quindi no non è un discorso di ragionare sulla Champions non è un discorso di ragionare sui punti e su quello che manca no è un discorso anche di cercare di fare qualcosa di più perché il tifoso non va allo stadio per dire beh dai siamo arrivati in Champions bene così no un tifoso che va allo stadio è anche per cercare di supportare la squadra nel momento complicato ma per avere anche una risposta dalla squadra vincere è straordinario ma quando non vinci è importante arrivare in primavera al meglio questa è una domanda che viene fatta Allegri più che altro una riflessione e Allegri risponde a una questione che non si può vincere per sempre non può vincere sempre una squadra sola la Juventus ha fatto anni straordinari ora dando per scontato il fatto che questa cosa è decisamente vera non può vincere sempre una squadra sola la Juventus ha fatto anni straordinari questa non può essere la risposta da parte di un allenatore non può essere la risposta da parte di un allenatore con il palmarès di Allegri che ha avuto a disposizione tre stagioni per lavorare come le ha avute Allegri non può esistere questa risposta bisogna per forza di cose cercare di andare un po' più in profondità ed è una risposta che mi devasta perché allora semplicemente basta sedersi sull'arrivo del fiume aspettare il momento giusto per tornare a vincere ma non è così per tornare a vincere bisogna passare dal lavoro ed anche mettersi in discussione cose che in queste stagioni sono mancate secondo me c'è stato un cambiamento generazionale l'età media si è abbassata serve un percorso sostenibile per la richiesta della società è importante entrare in Champions tutti gli anni per il calcio italiano la Champions vuol dire 30% del fatturato per alcune squadre per la Juve il 20% ma serve entrare per forza ora serve entrare per forza sono d'accordo ma anche qui sono ragionamenti economico finanziari e sono ragionamenti che deve fare la società il tifoso non ragiona su questi binari o comunque se ci ragiona cerca sempre di puntare al meglio vi faccio un esempio vincendo il campionato in Champions ti qualifichi o comunque non ripetendo la stessa frase in ogni conferenza stampa e arrivando secondo terzo o quarto in Champions ti qualifichi questo continuare a ribadirlo ragazzi è mia lettura mio punto di vista in mala fede mi prendo mi assumo tutte le mie responsabilità una volontà come un'altra di mettere in evidenza la qualità del lavoro eseguito riassumendolo semplicemente al risultatismo più estremo risultatismo che in questo momento non è ancora stato raccolto per me non è in discussione io sono d'accordo con Allegri non è decisiva però ribadisco che non puoi prendere solo quel pezzettino lì e questo discorso di mala fede che va bene qualcuno me l'ha scritto secondo me sei mala fede va bene ragazzi io ve lo dico maliziosamente certe cose le penso e non ve le tengo dentro ve le devo dire cioè se le penso ve le dico e pensassi e me le tenessi per me sarebbe peggio no? è uscita una nota dello studio di Branchini che dice non ho idea di come abbiate fatto a interpretare il fatto che io abbia giudicato la società della Juventus erano solo parole non vanno decontestualizzate ragazzi qua c'è qualcuno che ha la faccia come come le natiche la faccia come le natiche questo è palesemente lanciare il sasso e nascondere la mano e a me questi atteggiamenti non piacciono ma poi ci torneremo sopra questa roba è importante entrare in Champions bla 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 non è facile in Italia ci sono 7-8 squadre la Roma che è rientrata il Napoli che è lì la Fiorentina l'Atalanta e quest'anno il Bologna cioè noi stiamo davvero mettendo sullo stesso piano la Juve la Roma il Napoli la Fiorentina l'Atalanta e il Bologna per me non può esistere questo ragionamento mettere queste squadre sullo stesso piano non può assolutamente esistere sarò strano io serve fare un passettino alla volta per entrare l'anno prossimo noi abbiamo cercato di lottare ma questo mese abbiamo lasciato lo scudetto ma come non eravamo arrivati a marzo nelle migliori condizioni possibili è una squadra in crescita a me non pare in questo momento mi sembra che la Juventus il concetto di crescita sia completamente errato per il momento ma anche qui sbaglierò io con giocatori che hanno bisogno di giocare partite importanti questa squadra tra 2, 3, 4 anni avrà i fagioli i Miretti gli Ling gli Ildis tutti giovani con Vlaovic e Cambiaso che sono dei 2000 hanno dei giocatori che hanno bisogno di giocare partite importanti per crescere e su questo credo che la Juve abbia un futuro importante però questo è esattamente quello che abbiamo sentito l'anno scorso e l'anno prima è a termine delle stagioni questa è stata una stagione di crescita che ha permesso a questi giocatori di giocare partite importanti l'anno prossimo e saranno più pronti oltre a considerare il fatto che ragazzi parlare di Cambiaso e di Vlaovic giocatori nati nel 2000 che in questa stagione compiranno 24 anni come giocatori giovani per me è qualcosa di fuori dal mondo non sono giocatori giovani sono giocatori che stanno entrando nel pieno delle loro carriere delle loro vite professionali nel momento clou è questo il momento clou uno fino a quanto è giovane ragazzi è ovvio che è giovane sulla carta d'identità un ragazzo di 24 anni per definizione non può essere considerato vecchio ma nel calcio un ragazzo di 24 anni è nel pieno della propria maturità calcistica non possiamo considerare giovane un ragazzo del 2000 nel 2024 questa roba mi manda i matti cioè qua bisogna parlare al limite di esperienza ma anche qui Vlaovic ragazzi è un giocatore che negli ultimi anni di esperienza ne ha accumulata cioè e perché ci sono allora dei giocatori che hanno minore età ma comunque rendono di più hanno accumulato più esperienza dove cioè sono questi i concetti che non mi piacciono perché è sempre un costantemente mettere le mani avanti andare a difendere quello che è stato sminuire gli insuccessi e massimizzare quelle che sono le cose minime da raccogliere una stagione alla Juventus queste sono cose che non mi piacciono io sarò malizioso io lo ammetto ve lo dico lo ammetto sarò malizioso questi sono pensieri maliziosi ma Allegri non vi sembra malizioso allo stesso punto mio cioè non vi sembra che ci sia malizia in queste parole in queste dichiarazioni di Allegri sembra che sia tutto lineare dire che l'obiettivo era arrivare a Marzan migliore delle condizioni possibili ci siamo arrivati dire che Vlaovic e Cambiaso sono giocatori giovani dire che la Juventus servirà ancora per questi giocatori giocare altre partite importanti che è esattamente il discorso commicolato degli ultimi due anni dire che quelle parole non erano rivolte ai dirigenti della Juve ma come si permettono di prendere considerazione non vi sembrano discorsi maliziosi io ve lo ammetto io ve lo dico c'è un rapporto differente uno a uno io posso dire quel che mi pare piace tanto il mio spazio sulle mie opinioni e va bene però non vi sembrano discorsi maliziosi allo stesso modo? allora per forza di cose devo tirare fuori discorsi maliziosi perché se no semplicemente si tratta di dire sì 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 e non è quello che devo dire io modulo questione di caratteristiche dei calciatori abbiamo fatto l'ultimo quarto d'ora con chiesa a destra e l'indizza a sinistra poi siamo partiti con chiesa a sinistra e Cambiaso a destra poi 3, 4, 5 la squadra è cresciuta serve tornare a fare risultati e dare continuità ai risultati ma mister cavolo non è che uno cresce perché lo butti in campo non è che hai preso Longia hai giocato 14 minuti e è cresciuto anzi anzi non funziona così non è che se prendi chiese e Ildis li butti dentro è come prendere chiese e Cambiaso perché allora tutto il discorso relativo ai giocatori che costano 100 milioni che fa la differenza viene a mancare perché tanto puoi dire vabbè Ronaldo e Messi destra e sinistra vabbè ho messo Toselli e chi volete voi tanto è solo questione di caratteristiche dei calciatori chiese Cambiaso e chiese Ildis non fallo lo stesso lavoro nel 3, 4 nel 3, 5, 2 e nel 4, 3, 3 poi mie volontà mie letture 3, 4, 5 dire che cambi poco non è vero perché mettere i calciatori nelle migliori condizioni possibili significa anche spostarli geograficamente sul campo da calcio o farli arrivare poiché non abbia senso parlare di moduli sono d'accordo oggi ha senso parlare di spazi però non parliamo nemmeno di quelli non parliamo nemmeno di quelli come si affronta l'Atalanta in pressing in cui ripartenza questa è una domanda interessante perché ho fatto un contenuto proprio su sta roba qua dicendovi ragazzi ormai leggere la Juve è impossibile ci sono delle partite in cui non oltrepassiamo la linea del centrocampo delle partite in cui andiamo a pressare altissimi sono molto rare quelle in cui andiamo a pressare rarissime e comunque non durano tutta la partita invece quelle in cui difidiamo all'ultranza ecco lì c'è caso che duri in tutta la partita vedi a Bergamo l'andata contro l'Atalanta e Allegri dice ma guarda ci sono dei momenti in cui andiamo più alti i momenti in cui avrà la palla loro serve difendere la nostra metà campo sono fasi di partite e io sono d'accordo perché il problema è che Allegri quando parla dice anche cose sensate che poi non mette in pratica e questo è il vero problema non è che si scrive su un foglio cosa fare 70-90 minuti l'importante è interpretare la partita al meglio quando abbiamo palla o no vero il problema è che la Juve non lo fa questa cosa la Juve non interpreta al meglio la partita in fase di possesso non possesso o interdizione non lo fa e questo è il grande problema partirà Ildis dal primo minuto sta meglio dice Allegri e io gli dico perché quando è stato male cosa mi sono perso quando è che Ildis non è stato bene dopo un periodo di elogiato in cui è stato messo sul piedistallo per qualità tecniche un ragazzo che non ha nemmeno giocato in next gen ma è passato dalla primavera alla prima squadra quindi significa questa roba Ildis l'ha accusata è successo qualcosa a Ildis si è percepito che Ildis ha detto cavolo mister questa roba mi ha dato oppure questa è una lettura di Allegri perché cambia concetto se ora sta tornando a fare bene lo vede in allenamento torna a fare gol è un giocatore giovane ma bravo e ci sarà utile a fine stagione non è che se uno passa dalla primavera alla prima squadra allora questo ha bisogno a un certo punto di prenderlo e di metterlo nell'armadio queste sono letture molto estreme di Allegri molto estreme e questo spiega perché ha giocato Chiesa anche nelle partite in cui Chiesa non sembrava pronto fisicamente questa è la spiegazione potrebbe esserci spazio per Nicolussi Caviglia o Nonge? Nicolussi Caviglia e Nonge sono altri due giovani Nicolussi è d'affidamento quando è stato chiamato in causa ha fatto bene Nonge quando domenica è stato chiamato in causa Napoli ha fatto una buona cosa sul gol poi ha difeso meno bene in area sa giocare molto bene a calcio ma deve crescere come normale come si gestiscono i giovani vanno lasciati sereni e poi la responsabilità non è loro è fisiologico avere alti e bassi e trovare l'equilibrio che ti permette di giocare le partite con continuità ed equilibrio Miretti veniva da un periodo non bellissimo ma domenica Napoli ha fatto una bella partita caratteriale ed emotiva credo che abbia quasi 70 partite nella Juve quindi i giovani da Juventus sono bravi su quello si deve continuare a lavorare dando equilibrio e miscelandola con quelli di esperienza ripeto Allegri dice anche delle cose giuste il problema è poi quando venga messa in atto in maniere differenti l'unica cosa sulla quale non sono d'accordo è che non è per certo che un giocatore arrivato a una certa soglia d'età andrà a giocare con continuità ed equilibrio ci sono anche dei giocatori che in determinate conteste o in determinate annate o in determinate partite anche se sono entrati nella maturità non giocano delle belle partite mi viene in mente l'esempio di Kostic in questa stagione mi viene in mente l'esempio di Alexandro nelle ultime stagioni questi sono giocatori non giovani sono giocatori esperti sono giocatori che hanno giocato tante tantissime partite anche a livelli alti anche le partite importanti di cui parlava prima Allegri ma non sono in questo momento da un certo periodo negli ultimi anni giocatori che danno possibilità di giocare con continuità ed equilibrio come dice Allegri e magari fanno meglio dei giocatori come Ildis che passano dalla primavera alla prima squadra anche se sono sul piedistallo i riflettori e tutte queste robe qui quindi non c'è correlazione tra sta roba possiamo dimenticarci della carta d'identità nel calcio io faccio questa richiesta che un giocatore abbia 35 anni o che ne abbia 15 se merita di giocare deve giocare che abbia giocato 100 partite o 0 lasciamo stare la carta d'identità nel calcio per favore io l'unica cosa su cui mi trovo d'accordo magari è l'esperienza però l'esperienza viene giocando senza aver paura perché questi giocatori devono giocare se no ci ritroviamo a dire che nel 2004 i ragazzi del 2000 sono dei giovani no ma non è così e non può essere così che era l'uomo giusto per domani che è in un altro 2000 sembra più vecchio perché ha giocato tanti anni mister ma che era 24 anni sta meglio sta bene non ha tutta una partita ma da qui a fine anno ci dà molte soluzioni si parla molto il suo futuro mister le dà fastidio no non mi preoccupa il più importante è concentrarsi sugli obiettivi della stagione della Juventus tutto il resto non conta contano i risultati sul campo gli obiettivi da raggiungere tutte le energie vanno dentro il campo siamo nella parte finale il resto è secondario tutte le energie vanno sul campo però la scorsa settimana è lo stesso Allegri che dice sia ben chiaro a tutti che io non ho ancora parlato con nessuno quella è un'energia che va sul campo o un'energia che va sull'extracampo il procuratore di Allegri che fa l'intervento dopo pochissimi minuti dalle dichiarazioni di Allegri quelle sono energie che vanno sul campo no quindi quando queste situazioni extracampo vengano create dai protagonisti stessi io trovo quantomeno incoerente che poi venga detto concentriamo tutte le nostre energie sul campo perché sono i primi a non farlo ed è logico che sia così si parla di posti di lavoro si parla di stabilità economica si parla di progettazione del futuro ed è normale che sia così ed è normale che i diretti interessati siano preoccupati o che vogliano delle risposte è normale che sia così il fatto che la Juventus non abbia ancora contattato Allegri secondo me invece è emblematico e credo che sia anche il motivo per cui si è generata questa discussione la mia lettura è che Allegri abbia capito che il suo spazio la Juventus e il suo tempo la Juventus sia concluso ma di questo vedremo tra qualche settimana difesa troppi gol e Allegri dice se tutte le domeniche prende due gol è difficile fare risultato è sicuramente difficile fare risultato se manteniamo una media di un gol e rotti a partita se ne prendi due e tu ne fai uno e rotti perdi sempre su questo sono assolutamente d'accordo mi ero preoccupato dopo Verone col Frosinone avevo la sensazione di poter prendere gol in ogni momento a Napoli ho avuto meno quella sensazione vedremo che partita giocheremo se vuoi alzare il livello della qualità difensiva serve alzare il livello della qualità difensiva questo è sicuro però c'è anche da dire una cosa perché dipende anche molto dalla squadra che vai a incontrare a me pare che il Frosinone della Sverone sono tutte squadre che sono venute l'Udinese stessa consapevole del fatto dei tuoi limiti così come il Napoli sono tutte partite che hanno annusato l'odore del sangue della Juventus prendete una bistecca mettetela nella vasca degli squali la squalo cosa fa? la mangia è che sta lì a pensare la mangia sento l'odore del sangue tutte queste squadre hanno sentito l'odore del sangue della Juventus hanno capito che la Juventus c'era in difficoltà hanno capito che potevano fare risultato e hanno fatto risultato contro la Juventus non è che se il Napoli un po' di più un po' di meno bisogna smettere di guardare gli avversari non è sempre solo un guardare gli avversari bisogna guardare anche un po' noi stessi perché guardando la classifica e dire siamo secondi nasconde il fatto che c'è il Milan a un punto questa a sei punti che è il Bologna le altre che ha recuperato ci hanno preso dieci punti nelle ultime sei partite e se no ci troviamo questo tappeto che è una montagna e soprattutto c'è tutta la polvere e noi siamo belli seduti sul tappeto dicendo ho fatto proprio le pulizie fatte bene no sei seduto su una montagna di polvere quindi iniziamo a guardare noi non è il Napoli ci ha fatto meno tiri in porta e cavolo ma noi però facciamo sempre zero punti poi può esserci quella volta che la prestazione come a Napoli non ti meritavi di perdere di tornare a casa con zero punti però perché allora non andiamo in conferenza stampa dopo il Frosinone e non diciamo la stessa roba perché per me la Juve non merita di perdere con il Napoli non merita di vincere col Frosinone e te le dico tutte e due è ovvio che Allegri voglia difendere il suo lavoro lo so anch'io lo so anch'io e per quello che vi dico allora non trovate una certa malizia in questi discorsi è un semplicemente sta andando tutta la grandissima stiamo rispettando i piani le tabelle ma come vogliono cambiarmi ma guardate ma non vedete il mio lavoro meraviglioso è esattamente quello che mi hanno chiesto sì però il minimo ignorando tutto il resto con tutta quella polvere sotto il tappeto questa è una roba che secondo me non funziona Atalanta impegnata in coppa sarà stanca o no la partita si gioca sugli esterni altra domanda molto bella secondo me questa Allegri dice gli esterni hanno fatto buone partite i nostri alternando cose buone ad altre meno buone l'Atalanta no non la troviamo stanca hanno tanti giocatori hanno riposato in 5 domani è molto importante perché non è decisiva ma è importante per la stagione però anche qui d'accordo l'Atalanta avrà fatto turnover però quando la Juve giocava in Champions o in Europa League e riposavano in 5 vuol dire che 6 giocavano e si prendeva in considerazione il fatto di dire cavolo però c'è l'impegno mentale c'è l'impegno trasfertistico c'è l'impegno del recupero del lavoro non più specifico sul gruppo però quello che ha giocato quell'altro che non ha giocato questo deve recuperare minuti ci sono tutte cose che fanno la differenza no? invece qua riassumiamo semplicemente ma no l'Atalanta ha riposato in 5 quindi e no cavolo fa la differenza poi anche il Napoli aveva giocato in fra settimana la settimana scorsa non è cambiato niente quindi è molto molto complicata secondo la partita di domani molto molto complicata sostituzione su Nonge no diseducativo no in quel momento mancavano 4 minuti mi servivano 2 forti di testa e in quel momento ho messo Danilo e Milik infatti poi abbiamo avuto l'occasione con Rugani e ho tolto il meno forte di testa la sostituzione non era quella lì ma un'altra abbiamo preso gol e l'ho cambiata perché Milik e Danilo erano già a metà campo come ho detto già il giorno dopo nelle pagelle per me questa è l'unica spiegazione razionale dal punto di vista dell'impatto che poteva avere poi per me nel momento in cui metti Nonge non lo levi a maggior ragione dopo che hai procurato il rigore ma questa è la mia opinione e ne ho già parlato dico solo una cosa mi dispiace che queste parole non siano arrivate ai microfoni nell'immediato post partita perché io ero molto arrabbiato lo sapete chi era in live con me se lo ricorderà assolutamente però ho pensato se adesso vai ai microfoni e mi dà una spiegazione quanto meno coerente e ripeto questa per me è una delle poche spiegazioni coerenti poi non la condivido perché non la condivido però capisco che ci possa essere un minimo di ragionamento dietro se hai ai microfoni e me la spiega è già diverso e anche su Nonge può avere un effetto diverso perché hai usato il bastone nella sostituzione però poi usi la carota gli fai una carezza a mezzo stampa non si è parlato assolutamente di sta roba e tirarla fuori una settimana dopo quando hai tutto il tempo eventualmente per preparartela alla risposta perché non sei più a caldo bensì sei a freddo ha una valenza differente poi il fatto che finalmente abbiamo a disposizione il pezzo del puzzle che va a completare la figura e sappiamo che la sostituzione di Nonge in via ufficiale sta è avvenuta per via dei saltatori è già qualcosa però ribadisco saperla sette giorni dopo è qualcosa che secondo me cambia e non poco perché c'è stato tempo per ragionarci sopra ragazzi 28 minuti di analisi della conferenza stampa come al solito vi invito ad andarvela a vedere anche direttamente su lui io di solito la guardo su eventus tv perché ho il pass andatevela a vedere su eventus tv o forse c'è mi pare anche su da zone si dovrebbe esserci anche su da zone o dove avete la possibilità di guardarla perché gli spunti che elaboro io non sono gli stessi che andrete a lavorare voi io come al solito vi chiedo un supporto un mi piace un'iscrizione a questo canale dobbiamo raggiungere 250.000 iscrizioni che sono tantissimi veramente tantissimi dovremo farlo entro maggio faremo un po' fatica non festeggeremo quest'anno i 10 anni di youtube con i 250.000 iscritti ma ci proviamo fino all'ultimo secondo ma soprattutto un commento perché i commenti sono la cosa più importante perché mi danno la possibilità di andargli a leggere e andare a capire se le mie percezioni le mie sensazioni i miei pensieri sono gli stessi rispetto ai vostri ecco lo scambio di opinioni di commenti per me è sempre la cosa più importante perché produce questa possibilità di creare anche nuovi contenuti e soprattutto agevolare e creare delle riflessioni dentro ognuno di noi a me piace sempre leggere tutto poi non condivido tutto ci mancherebbe altro così come voi non andrete a condividere tutto quello che dico io però assorbo come una spugna e muovo gli ingranaggi qui nel cervello ragazzi a domani domani mattina come al solito video sul presto per ragionare un po' probabile formazione precedenti statistiche dell'Atalanta cose da tenere in considerazione gli obiettivi le cose più pericolose degli avversari e poi alle 18 si gioca quindi ricordatevi che domani orario aperitivo in realtà ci troviamo su Twitch e se volete al massimo lì ci possiamo bere una bella birra insieme ciao ragazzi grazie a tutti buon sabato sera e ci vediamo domani mattina grazie a tutti